Si è tenuta questa mattina presso il cimitero comunale la cerimonia di commemorazione dei defunti. La giornata è cominciata con la Santa Messa, concelebrata dai parroci e dai sacerdoti di Battipaglia. Successivamente è stata deposta una corona alla lapide commemorativa dei sindaci che hanno amministrato la città e all'ossario comunale in memoria dei defunti. Presente la sindaca di Battipaglia, Sicilia Francese ed altre autorità istituzionali e militari. Un momento di riflessione che ha visto la partecipazione di molte persone nonostante la forte pioggia.